Ciao amici, è la prima volta che mi rivolgo a voi con un video, ma innanzitutto per chi ha poca memoria, ma soprattutto per i giovani, vi presento. Sono Enrico Maria Papes, dello storico gruppo degli anni 60 I Giganti, quelli di tema, la bomba atomica, proposta, ovvero mettete i fiori nei vostri cannoni, una ragazza in due, terra in bocca e altri. Dopo oltre 50 anni mi sono deciso, ho realizzato il mio primo album composto da 12 canzoni mie e inedite. Oggi non ci sono più le grosse case discografiche e si stenta a fare promozione, a vendere CD ed è per questo che mi rivolgo a voi per chiedervi di condividere e far condividere questo breve video in modo che più persone possibili sappiano di questo nuovo lavoro. Io sinceramente credo che sia il momento di di ascoltare altra musica e altre storie. Ma intanto, questo è il CD. Questo è il CD, Enrico Maria Papes, canto quel che vedo. Nella foto probabilmente si può capire che non vedo tanta bellezza in giro. va bene, dietro ci sono i titoli e all'interno c'è un piccolo libretto con i musicisti che hanno contribuito a registrare questo questo CD e li devo ringraziare tanto tanto tantissimo perché ci hanno messo veramente tanta passione. va bene amici, qui sopra troverete un link per chi vuole acquistare il CD. Intanto a presto e un abbraccio a tutti. Ciao! ciao!